Tra qualche settimana inizierà la scuola non solo in Italia ma anche in Ucraina e quindi è partita una raccolta di fondi e materiali per chi, per effetto dell'avanzata russa, ha perso tutto. Abbiamo deciso di fare questa raccolta dei soldi e anche materiale scolastico per bambini ucraini perché in Ucraina adesso in difficoltà i bambini che vogliono andare a studiare e avere anche il suo futuro, cercare un po' di pace, imparare la sua storia e continuare a vivere. Perciò questo evento sarà 15 di agosto a POS di festa di unità perché mi hanno proposto i nostri amici di PD per raccogliere un po' di soldi e materiale per voi mandare per bambini in Ucraina. Ci sono numerose famiglie con bambini che proprio non ne hanno niente, hanno lasciato dove c'è la guerra e sono venuti più vicino del Polonia, dei frontieri della Polonia. E quindi appunto raccogliete materiali? Scolastico, soldi e materiale perché per soldi andiamo subito a comprarlo e mandiamo questi zainetti. Rimpiamo i zainetti per le famiglie perché ne abbiamo già contato, ogni famiglia e quanti bambini ne ha perché sono famiglie con le bambine numerose, allora lo portiamo dentro proprio le famiglie. La raccolta si terrà lunedì dalle 11 alle 14 ma ci sono delle possibilità anche per chi non riuscirà ad essere presente. Può contattare perché c'è il mio numero di telefono, stanno tutti a sezione Ucraina più di Belluno, allora contattare Ivanka e allora così possiamo risolvere il problema. Se no può anche comprare da solo.